ciao a tutti oggi prepareremo i biscotti alla sambuga il tempo di preparazione della ricetta è di circa 20 minuti ingredienti sono farina burro freddo a pezzi liquore sambuga succo di arancia uovo lievito per dolci vanillina e zucchero semolato diamo il via la ricetta andiamo ad aggiungere nel boccare la farina lo zucchero uovo il lievito per dolci la vanillina il burro freddo tagliato a cubetti il succo d'arancia e il liquore sambuga andiamo ad amalgamare il tutto per due minuti a velocità 5 adesso andiamo a verificare la consistenza del nostro impasto nel caso in cui fosse troppo asciutto andremo ad aggiungere del latte a filo dal foro del coperchio nel caso in cui fosse troppo liquido andremo ad aggiungere della farina nel nostro caso l'impasto risulta essere leggermente asciutto quindi andremo ad aggiungere del latte a filo dal foro del coperchio facendo continuare a impastare i bimbi chiediamo il coperchio leviamo il misurino azioniamo il bimbi senza tempo a velocità 5 a questo punto possiamo fermare il bimbi il nostro impasto è pronto come vedete la consistenza è cambiata adesso andremo a metterlo su una spianadoia per formare i nostri biscotti dopo aver tirato fuori l'impasto dal bimbi andiamolo a stendere dopo aver steso il nostro impasto andiamo a formare i nostri biscotti con l'aiuto di alcune formine dopodiché li andremo a posizionare su una teglia rivestita da carta da un forno e li inforneremo a 180 gradi a forno preriscaldato per 10-15 minuti o sino a quando non saranno dorati nella parte superiore i nostri biscotti sono pronti andiamo a impiattare biscotti alla sambuca grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti